bella a tutti ragazzi qua è leo e siamo qui con l'accettare qualsiasi offerta challenge la challenge che ha fatto anche ricky con il minano ovviamente oggi noi la facciamo con l'inter forse ragazzi mister leo è pronto la rosa è pronta ovviamente le regole se non l'avete capite c'è comunque il video di ricky per capire però in poche parole noi dobbiamo accettare qualsiasi offerta che ci viene proposta a livello dei nostri giocatori quindi per cedere i nostri giocatori nella sessione estiva e poi nella sessione invernale possiamo di nuovo accettare qualsiasi offerta più però comprare qualche giocatore per migliorare la nostra squadra come vedete la rosa che ho fatto è dell'inter aggiornata quindi ci sono anche i nuovi acquisti come borca valero c'è dalbert c'è screener c'è cansello in panchina abbiamo anche vecino e poi tutti gli altri non abbiamo una rosa enorme anche perché l'inter deve secondo me fare ancora uno due acquisti magari nel mentre che tra questo video registro e quando esce avrà fatto qualche altro acquisto però purtroppo io non lo posso fare quindi ho messo tutti i giocatori vendibili sul mercato ovviamente non i nuovi non quelli appena arrivati e andremo ad accettare come abbiamo già detto tutte le offerte che ci arriveranno le partite non verranno giocate quindi speriamo di fare meglio di ricky che è arrivato tredicesimo in campionato però quantomeno arrivare nelle prime dieci non sarebbe male per il momento non ci sono offerte quindi io continuerei va benissimo così ok è arrivata la prima offerta è per maurite cardi subito se ne va 34 milioni anche pochissimo alla roma madonna mia maurite cardi se ne va addio marito per fortuna abbiamo io vatici che non può andare via perché appena tornato dal seviglia ok una nuova offerta questa volta è per santon santon lo do via più che volentieri 4 milioni e 100 va bene poteva andare peggio andiamo avanti ok offerta per il trasferimento anche per esic intanto sono stati venduti santone i cardi ma per esic un altro top player che abbiamo 24 milioni anche questo veramente svenduto no 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 sbagliato accetta offerta e non so più cosa dire bene un'altra offerta per d'ambrosio che anche questo un po mi dispiace perché non solo abbiamo già appena dato via santon ma d'ambrosio è l'unico terzino che può fare anche difensore centrale abbiamo solo due difensori centrali uno non può andare via che è screener l'altro è miranda e sono quasi sicuro che arriverà un'offerta per mirando anche se no miranda è in prestito all'inter quanto abbiamo in prestito quindi non dovrebbe andare via anzi non è sul mercato ok è un'offerta per iuto nagatoma lo do via più che volentieri che al momento abbiamo ansaldi e dal delta a sinistra quindi va bene aiuto addio non mi interessa no eccoci l'offerta che sapevo sarebbe arrivata per samir andanovic altri 32 milioni non male il budget trasferimenti si amplia fino a 126 milioni però abbiamo dato via come purtroppo era logico i nostri tre top player ovvero andanovic perisic e i cardi ok si è infortunato anche jokansel due settimane vabbè poteva andare peggio è stato venduto iuto nagatomo e arrivato un'offerta per radu va bene il nostro terzo portiere era diventato abbiamo ancora padelli e berni ok ultima offerta per berni quindi ci rimane solo padelli però va bene va bene un portiere ci rimane per forza perché padelli appena arrivato all'inter quindi non può andare via e penso che questa sia l'ultima trattativa perché non penso di avere altri giocatori in vendita vendibili perché penso di averli venduti tutti quelli che potevo e adesso abbiamo la prima di campionato contro il chievo che ovviamente simuleremo perché le partite non le simuliamo sennò diventa una carriera vera e propria questa carriera deve durare un solo episodio quindi simuliamo la partita col chievo non ho nemmeno rifatto formazione per c'è edel io vatici borca valero candreva penso edel come esterno poteva andare peggio veramente andanovic ancora in porta non so perché non è stato venduto ma va bene se non lo vendete va bene andiamo con il chievo guardiamo cosa succede attenzione saltiamo 2 a 0 candreva e screener screener goleador eccezionale iniziamo bene il campionato iniziamo bene quindi avanziamo speriamo di non vendere a questo punto andanovic visto che era ancora in squadra abbiamo anche la partita col palermo spero non ci arrivi nemmeno altre offerte vediamo che non sono arrivate offerte quindi andiamo a simulare anche la partita col palermo sperando di andare a vincere anche questa partita sarebbe importante in caso al palermo ce lo possiamo fare la squadra ancora buona 3 a 0 doppietta di jovitic eccezionale non ci preoccupiamo da andrò via i car di perdici forse non andanovic abbiamo avuto fortuna almeno su questo non mi sono arrivate altre offerte come vedete dall'ufficio non ci sono nove me già tori impegnati non ci interessa quindi andiamo ad avanzare queste ultime 10 ore sperando non ci arrivi nessun altro offerto guardiamo da parte di chi è 34 milioni quindi proprio il suo valore a parte del arsenal quindi io vado accettare sperando che non vada in porto anche questa però è dura è dura speriamo non vada via andamici perché sarebbe importante tenerci il portiere titolare sarebbe veramente importante ok siamo arrivati alla fine l'ultimo giorno di mercato si è concluso non mi pare sia arrivata l'ufficialità di andanovic all'arsenal e quindi penso che sia rimasto il nostro carissimo samir andanovic infatti vado a vedere non ci sono altre mail l'ultima è quella dell'offerta di trasferimento quindi in teoria dovrebbe essere rimasto il nostro samir come vedete c'è ancora la rosa devo dire è rimasta praticamente invariata anche perché molti sono appisti nuovi quindi non male devo dire non male adesso andremo a simulare fino al 2 gennaio con il primo gennaio per capodanno andiamo a giocare col genoma andiamo a simulare fino al 2 gennaio vediamo cosa succede ok ragazzi ci siamo adesso andiamo a vedere come siamo messi in classifica l'ultima partita abbiamo vinto tutto il geno 85 di valutazione ragazzi stiamo andando benissimo sicuramente meglio di ricky siamo secondi al massimo pari merito con la lazio 5 punti della juventus veramente ottimo questo campionato dell'inter quindi adesso vado a rimettere tutti i giocatori in vendita e vado a iniziare a pensare al mercato che potrò fare ok adesso potrò mettere sul mercato anche i giocatori arrivati a gennaio all'inter quindi oltre al solito andano amici abbiamo joa mario andrea vansaldi finamonti bakayoko radu gabriel e bernie adesso vado a pensare un pochino a chi potrei prendere ragazzi io punterei su giocatori di ovvero abbastanza buono ma magari con l'età un pochino avanzata perché perché vanno a costare molto meno non so se è una furbata la mia però io l'ho pensato un pochino così andiamo a offrire 10 milioni secchi per barzagli non penso me lo lasciano cedere così facilmente perché nostra diretta avversaria però già a barzagli sarebbe un bel innesto in difesa ok offerta accettata per barzagli ottimo arriva un bellissimo bellissimo è un fortissimo difensore centrale non vi metto ovviamente lo stipendio che vuole tutte le richieste che vuole perché accanto a miranda sono me farà tanto bene ok arrivato un'offerta per ansaldi va bene 6 milioni va alla ferentina penso christen ansaldi abbiamo ancora d'albert quindi il terzino ce lo abbiamo andiamo a simulare la partita contro l'udinese abbiamo ancora un'ottima squadra quindi per il momento ci è andata molto bene sta challenge sta andando abbastanza bene speriamo di vincere 2 a 1 doppietta ancora di joveric eccezionale voglio dire anche quanti gol ha segnato joveric ma il capo cannoniero ok offerta accettata per barzagli offerta accettata anche dal bayern per frank riveri buonissimo quindi andiamo intanto a mettere barzagli in rosa che ci fa più che comodo quindi ci avanzano ancora 11 milioni più quasi un milione di budget stipendi quindi perfetto e andiamo anche a fare un'offerta di contratto per frank riveri andiamo anche a simulare la coppa italia non che mi interessi 3 a 0 doppietta di canselo eccezionale gioca canselo 7 brozovic anche segna quindi buono che è arrivata un'offerta per berni accettiamo anche berni non era andato via ma possiamo dare via tranquillamente abbiamo ancora tanto budget ma vorrei fare ancora un paio di colpi andiamo a simulare la prima di ritorno contro il chievo quindi vediamo un pochino come possiamo fare con barzagli e miranda difensori centrali potrei anche non prendere in effetti godin adesso ci penso 5 a 0 doppietta di valero di joveric e gol ancora per canselo in effetti godin potrei anche non prenderlo potrei puntare più su una punta aia se ne va via anche stefan joveric adesso serve veramente un punto però 26 milioni sono tantissimi quelli dell'ipsia quindi va bene così ho già in mente un colpino dovrebbe arrivare spero ok eccoci qua contro il palermo fuori casa non può giocare ed è perché è infortunato per due mesi tra l'altro quindi peccato giocherà vecino penso una fascia ma va bene uguale andiamo a saltare 2 a 1 brosvic è proprio vecino che va a segnare diamanti il gol per il palermo ma andiamo a vincere anche questa partita eccezionale ok di nuovo arriva un'offerta per se non andavano in giustavolta molto basso 28 milioni e mezzo da parte del manchester city speriamo non vada via se no dovrei pensare anche a prendere un portiere anzi un'offerta la faccio per qualche portiere ok ragazzi due offerte accettate sia ribere che ovviamente vado a prendermi assolutamente entrambi quindi frank liberi arriva nell'inter esterno sinistro titolarissimo e adesso andiamo a prendere anche per il momento aspetto godin perché non ne ho così tanto bisogno di tanto di penso centrale abbiamo guazzagli e miranda quindi non voglio fare pazzie andiamo a prenderci soprattutto pierre emery cobameyang attaccantone che va titolare ma neanche a dirlo ok begovi ci ha accettato subito senza pensarci quindi va diretta una squadra abbiamo ancora 20 milioni e tanto budget stipendi potremmo anche prendere in teoria diego godin ma ragazzi non me la sento voglio fare più un colpo a centro campo magari ok andiamo avanti guardiamo cosa succede ancora in coppa italia con la ferentina abbiamo riveri e cobameyang in campo quindi formazione incredibile già in vantaggio 4 a 1 asfaltata la ferentina e noi ci andiamo a vincere il campionato ragazzi ci andiamo a vincere il campionato ok purtroppo mi sa che dovremo andare via candreva quindi dovremo pensare anche un esterno destra ragazzi il mercato ancora non è chiuso e soprattutto abbiamo entrambe le offerte accettate sia per pastore che per matic deciderò io io ragazzi vado a prendermi matic che è un bel centrompista difensivo noi non ne abbiamo in questo modo quindi va bene e andiamo a rifiutare pastore dovrò fare un'altra offerta appena arrivano i soldi per candreva per qualche esterno non so chi ok andiamo a simulare anche un'altra partita di serie a questa volta in caso col pescara speriamo di vincere 3 a 1 brosvic candreva cancero purtroppo candreva se ne andrà quindi questo un po' mi dispiace ma speriamo che vada bene lo stesso il campionato che ragazzi il tempo sta aggiungendo al termine ho provato a fare due offerte a due giocatori diversi due esterni destri diversi per avere un esterno destro nel rosa speriamo una delle due venga accettata offerta troppo basso offerta accettata dall'hamburgo quindi niente amrabat che costa un po' di più invece muller costa un pochino meno ragazzi gli vado a offrire tutto quello che ho quanto ho offerta accettata ok accettiamo muller l'ultima offerta possiamo fare ci sono rimasti un 2 milioni quindi e 2000 di stipendi quindi ottimo nicolai muller va a sostituire gabriel barbosa lì sulla fascia è un 87 va benissimo ragazzi almeno è un esterno destro di ruolo la rosa è pronta gabriel barbosa andrà in tribuna purtroppo perché la rosa è abbastanza completa abbiamo jovetic come punta di riserva non è stato venduto e quindi ragazzi andiamo a chiudere questo campionato al meglio no ragazzi joamario non se ne può andare via all'ultimo joamario ragazzi non ho nemmeno il tempo di fare offerte perché non mi arriveranno in tempo sti soldi giocatore venduto joamario 41 milioni anche radu va bene radu va benissimo però io mi sa che rifaccio l'offerta per pastore penso e avanziamo queste ultime ore speriamo di prenderlo andiamo un pochino abbiamo quattro ore al termine abbiamo fatto un mercato incredibile offerta accettata per aver pastore arriva aver pastore ottimo adesso abbiamo 6 milioni ma nessun budget quindi non abbiamo soldi praticamente andiamo a mettere pastore in rosa e speriamo di non dover fare più cambi ok mercato concluso chiuso veramente chiuso tutto va bene così adesso dobbiamo avanzare fino a fine stagione con una rosa veramente eccezionale adesso ve la faccio rivedere obama iambor cavalero liberi matic pastore muller cansello barzagli miranda dalbert begovic in pacchino abbiamo prosovic jovetic vessino gagliardini screener eder padelli e gabriel barbosa pure che volendo potrei mettere per eder che anche rotto andiamo avanti così speriamo di fare veramente bene questo finale stagione chissà magari potremmo anche riacciuffare la juve sarà difficile ma ce la possiamo fare ok ragazzi ci siamo siamo arrivati a giugno il campionato è finito guardiamo un pochino l'overo all'allenatore 71 ragazzi purtroppo abbiamo avuto una seconda parte di stagione non degna rispetto alla prima infatti siamo arrivati quarti però ragazzi quarti con l'inter ci sta siamo in europa soli due punti dal milan e quindi dalla champions league per capo abbiamo un po ceduto magari qualche infortuna immaginavo ragazzi me lo sentivo non so perché che barzagli sarebbe infortunato purtroppo si è rotto barzagli e quindi abbiamo dovuto giocare lo screener che comunque non è malissimo il resto non si è rotto nessuno gioco in serio è diventato un 82 eccezionale peccato la seconda parte di stagione un po ci riedevo però ragazzi quarti senza praticamente pilotare la squadra veramente un ottimo un ottimo percorso la coppa italia è andata al napoli abbiamo perso il semifinale contro la lazio però comunque un buon cammino ovviamente vi ripeto non pilotato quindi direi che è andata molto bene abbiamo sicuramente fatto meglio di ricky questo è poi ma sicuro l'arrivato del dicesimo noi quarti quindi commentate con quale altra squadra volete vedere se vi piace questa serie quindi commentate prima se vi piace questa serie lasciate un bel mi piace e mi raccomando e poi commentate con quale altra squadra magari la volete che la rifacciamo sia ai periti magari in contemporanea così che proprio vedere in parallelo chi fa meglio con la stessa squadra invito a iscrivervi al canale sul cadere fatto e vi ricordo come sempre be yourself stay ignorant ciao 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 ciao